bentornati 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 sul sul canale allora mentre il real madrid in qualche modo prende ufficializza acquista si alla fine un acquisto chilian bappé l'inter ci dispiace ci dispiace mi dispiace dover essere messaggero di sventura ma effettivamente l'inter di octre è bloccata cura dimagrante zero acquisti grandi cessioni saldi i saldi venghino signori venghino allora io purtroppo ecco parlo sapete vado a vado a braccio io vado a braccio parlo mentre ragiono e ragiono mentre parlo e quindi vi stavo dicendo non vi fidate non date retta anche i commenti colletto sotto i miei video negli ultimi giorni in particolare quella al video di gasperini gasperini e gasperini c'è stantipatico c'è la con l'inter però ha detto la verità ma che cazzo dite ma quale verità ma quale verità di mamma quale verità allora prende tutto c'è da registrare la marcia indietro di gasperini stamattina a radio radio rai 1 radio anch'io lo sport il programma perché ha detto beh sì ma non è anzi sì ma non è solo l'inter e l'europa allora ieri la domanda in conferenza stampa era precisa si partiva da l'inter campione italia cosa deve fare l'atalanta per colmare questo gap ecco gap il gap di gasp o il gap gasp che quindi il riferimento era all'inter e la risposta con tanto di occhietto furbo ma nemmeno tanto era riferita all'inter perché perché la vulgata che cosa dice un l'inter vince con un miliardo di debiti attenzione un miliardo di debiti non è una cifra casuale è quello che si ascolta da mesi sui social ai bar nei corridoi ai cessi soprattutto cessi che parlano necessi mi verrebbe da dire scusate ma stasera quando cevo cevo e quindi un miliardo non è casuale quando gli dice un miliardo il riferimento è chiaramente all'inter infatti poi non è che nega non è che dice no non mi riferivo all'inter ma mi riferivo al pes vendoven mi riferivo al borussia di dortmund mi riferivo al lanza rostock no dice non è solo l'inter quindi comunque dentro c'è l'inter e poi svia la domanda ieri in conferenza stampa era bella precisa la risposta è stata bella precisa a noi non ce la si fa a noi non ce la devono raccontare perché noi lo sappiamo perché noi lo sappiamo tanto per citare invece un allenatore che all'inter ha fatto bene e come si ha fatto bene e adesso si appresta a disputare il suo campionato europeo alla guida dell'italia altro spessore altra pasta d'uomo e quindi inutile la marcia indietro il riferimento era all'inter un miliardo di debiti facendo contratti ad essere a manca come se l'inter fosse il pari san germain come se l'inter fosse quel buco nero del pari san germain che risucchia i giocatori ande rerrera draxler rinconti lucas moura lucas no lucas lucas moura in continuazione non si sa che fine fanno perché totalmente tanti ecco quello era il pozzo nero che adesso con lui serriche devo dire è arrivata una sterzata anche anche corretta e mi piace mi piace ma perché lui serriche è uomo di calcio e non solo e poi questa retromarcia abbastanza pietosa oserei dire e però non è altro cioè questa eco riverberata anche da gasperini non è altro che il suono della ranocchia è il gracchiare di sottofondo è quello stridio di sottofondo che nulla ti toglie ma qualcosa ti sporca e io continuo ad ascoltare questa storia dei debiti dell'inter e non so più come spiegarla tutti noi abbiamo bene o male magari qualcuno no nella vita avrà contratto dei debiti un piccolo mutuo un finanziamento per l'automobile qualsiasi il debito quando è che diventa passibile di sanzione quando non è onorato ma se tu lo onori il debito c'è nulla di illegale e l'inter non è la sola ad avere i debiti che poi parliamo di un bond con scadenza 2027 perché per il resto per la gestione corrente non lo sappiamo qual è la traiettoria prolifica dell'inter negli ultimi anni una cura dimagrante che basta andarsi a consultare qualsiasi sito di calciomercato voi troverete i segni degli ultimi cinque anni di calciomercato l'inter ha il segno più tra le prime cinque della classifica l'inter è quella col segno più tra ricavi e acquisti tra cessioni e acquisti tanto per fare Scamacca va all'Atalanta perché gli offre di più dell'Inter quindi caro Gasperi ma se l'Atalanta hai messo un bond e ha debiti per non parlare del Milan che è quella che sta un po' messa meglio per non parlare della Juve che è quella che sta messa peggio però alla Juve gli diamo il terzo posto perché l'Atalanta con la sborna dell'Europa League perde in casa con la Fiorentina e non scavalca la Juve lo possiamo dire perché hanno detto dell'Inter col Sassuolo se tanto mi da tanto eppure non ho letto campionato falsato non ho letto niente la Juve è rimasta al terzo posto e sto a circa 3 milioni e mezzo in più di pre ma della Juve non si parla si parlava di chi aveva vinto il campionato la gestione Octri perché mi interessa sti cazzi di Gasperini il discorso che poi appunto si riverbera e anche nei commenti leggo eh però Gasperini dice il vero non dice il vero dice una minchiata sesquipedale parla senza sapere senza la minima competenza e nemmeno si consulta perché io lo sapete ho sempre ammesso la mia incompetenza mi consulto con i competenti e riferisco quello che ho capito perché se uno è competente sa anche magari spiegare anche una capra in economia e finanza come me qualcosa capisce e può dirlo ma ci sono dei limiti Gasperini sbaglia totalmente tutto fa un mischione alla fine è un discorso populista con gli applausi di tutti e non funziona così ho letto anche un commento interessante dice sì però anche tu sei giornalista in conferenza stampa queste domande non vengono mai poste sui social parlare sui social ha il giusto peso a parte che youtube non è social tanti fanno questo questo youtube è una piattaforma non è un social youtube attenzione quindi si tratta di comunque di comunicazione e metterci la faccia però sono d'accordo con te sono d'accordo con te tanto è vero che in quel piccolo periodo di era Gasperini e l'inter col sottoscritto è arrivato lo scontro dopo tre secondi e mezzo no? in una conferenza non ricordo se è pre-inter Trabzonspor o pre-novara-inter o pre-inter-roma vabbè una di quelle poche partite sarei veramente poche ma per fortuna peggiore allenatore della storia dell'inter per risultati mai una volta mai una volta non l'ho sentito mai mai una volta ho sentito Gasperini dire e in effetti anzi e in effetti qualcosa ho sbagliato anch'io no mai non sbagliavo tutti i giocatori la società i raccattapalli i magazzinieri i giardinieri tutti hanno sbagliato in quelle cinque partite 4-5 quanto sono state meno lui vabbè benissimo Inter-Trabzonspor 0-1 gol di Celuzca velo pietoso velo pietoso e per esempio appunto Novara-Inter la Supercoppa Palermo-Inter un pareggio Inter-Roma 0-0 vabbè 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 però perché ne parlo perché poi si diverbera e si ha una concezione Octri e i fondi i fondi tagliano vendono Lautaro non rinnova poi rinnova eh sì ma adesso rinnova perché così lo vengono e Lautaro mercenario se ne va resta e Lautaro resta solo perché gli ha dato di più e adesso l'escalation adesso se dai 10 a Lautaro devi dare 8 in tutte le squadre c'è sta chi prende di più e chi prende di meno e Barella che dice Barella sta rinnovando anzi di fatto ha rinnovato eh però ti sei potuto permettere di dare le commissioni per prendere Tiorama adesso non sarà più possibile l'Inter ragazzi sono 5 anni che sta a pane acqua ma di che parliamo col Sandman agreement firmato prima da Toir non si potevano mettere i giocatori in lista UEFA Spalletti si deve giocare la qualificazione agli ottavi con Candreva Mediano ma ce le ricordiamo ste cose gente che non poteva stare in lista UEFA per i paletti il 7 man agreement perché dovevi rispettare le uscite dell'entrata dell'anno precedente le uscite se il giocatore valia di più non poteva inserirlo perché la quota si alzava ma ci siamo dimenticati di sta roba mentre sta pane acqua da una vita paradosso qual è che dà fastidio che finché investivano Giovao Mario che ha bigol con Dubbià arrivava settimo ottavo ora che è più oculata non solo è oculata non solo va verso una direzione di risanamento del bilancio praticamente adesso si attesta a meno 40 meno 30 praticamente siamo in pari ma vince pure e dà fastidio perché dà fastidio perché evidentemente Inzaghi è riuscito dove non è riuscito Gasperini ma a parte questo Oktri fondo taglia non avete capito niente non avete capito se Oktri sta qui è perché già c'era conosce perfettamente la situazione vende il club probabilmente si non subito perché perché vuole appunto farci un margine e come ce lo fa un margine l'asset di una scuola di calcio vive se ti chiami Inter chiaramente quindi ognuno poi in proporzione alla propria possibilità alla propria storia vive di risultati abbiamo visto l'anno scorso col percorso Champions eh però hai perso la finale sì però ce si è arrivato ce si è arrivato e si è guadagnato e ti alza lo status e ti consente di farti scegliere da alcuni giocatori magari anche a parametro zero che non scelgono altri e piano piano inneschi il circolo virtuoso cresce il brand cresce il marchio crescono ricavi hai tutta una serie di benefit compresi i contratti nuovi con gli sponsor che pagano di più e quindi si chiama appunto investimento paghi oggi 100 per avere 1000 magari ieri pagavi un'altra paga 50 e ottieni 45 e questa è la differenza invece il percorso dell'Inter è chiaramente questo e octria tutto l'interesse a farsi che l'Inter vinca quindi che sia competitiva che quindi accresca il proprio valore per poi effettivamente magari trovare un compratore e rivendere a un prezzo maggiorato quindi non vi fate infine occhiare dei gasperini di tour un saluto